Il gran finale nella stagione di Uomini e Donne è oggi primo giugno 2018 con l'ultima puntata del programma di Canale 5. Si chiude in bellezza con il throne over e con Gemma Galgani e Tina Cipollari protagoniste. Le due signore infatti hanno fatto pace. Tina e Gemma finalmente hanno messo da parte i litigi, e hanno sigillato questa nuova edizione, fin troppo litigiosa, con la pace. In questi mesi vi abbiamo parlato di come questa guerra abbia toccato delle punte di trash che non avremmo mai voluto vedere. Tina e Gemma sono più volte quasi arrivate alle mani. È chiaro che si trattava di qualcosa di organizzato, le due signore mai si sarebbero fatte del male. Ma a casa arrivava anche altro, e spesso non era bello. Non dimenticheremo in questa stagione la bottiglietta dell'acqua data in testa a Gemma, la torta nuziale data in faccia alla dama. Più che i gesti poi, spesso sono state le parole dette dalla Cipollari che non ha risparmiato nulla a Gemma. Complica anche la solita incoerenza della Galgani, Tina ha avuto vita facile. Oggi però la pace. Tina infatti ha preso Gemma a ballare, vedendo che era rimasta da sola, dopo tutto quello che era successo con Giorgio e Marco. E poi stuzzicata da Maria De Chilippi, rimasta senza parole di fronte a tutto questo, ha spiegato le sue ragioni. Ha detto di aver visto una donna sola e triste, e proprio in onore alle donne, che vengono abbandonate e restano sole, si suggella questa pace. Mattina è stata chiara. Solo per oggi Maria ha detto la Cipollari scherzando, punto il video di Gemma e Tina Cipollari che ballano insieme, e fanno pace a uomini e donne probabilmente a settembre si ricomincerà, Ma il fatto che questa puntata sia finita con un bel gesto da parte delle sue signore ci ha fatto sicuramente molto piacere ed è anche un bel messaggio, finalmente. La De Chilippi ha scelto poi una canzone ben precisa per questo ballo. E dovremmo ricordarci più spesso che le donne, oltre alle gambe, hanno di più e non solo, dovremmo ricordarci più spesso di essere solidali tra di noi, stampa. .